Questo è il cantiere. Vedete lo scivolo che è una parte comune alle sette villette. Abbiamo ancora una villetta di testa e una villetta centrale in questo stupendo cantiere. Ora vi porto all'interno. Questa è la villa centrale. Da notare i particolari delle trave a vista bianche, dei parapetti in vetro, dei serramenti in PVC, degli inserti in mattoncino che sono ormai un punto di forza della Dima Costruzioni. O meglio, un marchio di fabbrica. Portoncini verdi. Questa è la villa laterale che avrà più terreno. Vi faccio vedere un'altra finitura che sono i frangisole che sono stati fatti appositamente come oscuranti, scelti come oscuranti per dare un tocco di modernità alle abitazioni. Siamo immersi in una zona verde e l'ultima villa di testa si affaccia proprio su questa parte di terreno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.